Covid, una biologa di Mead e Harvard, è nato in laboratorio, non al mercato di Wuhan, e chiama in causa gli Stati Uniti. Stessa notizia riportata da tutti i giornali, ma noi riportiamo i più aderenti al sistema, e pubblica a Corriere subito dopo, perché andate a vedere i board, eh? Ecco, guardate la notizia, la notizia è fortissima, fortissima. Il laboratorio di Wuhan e le accuse rilanciate dal New York Times, che segue ovviamente la biologa famosissima e qualificatissima, che dice, basta, sulle responsabilità degli Stati Uniti potrebbe essere stato l'incidente più dannoso nella storia della ricerca scientifica e della scienza, ma vi rendete conto cosa scrive? Leggiamo velocemente, poi diamo la parola ai nostri, il New York Times rilancia l'ipotesi della biologa molecolare canadese, Alina Chan, che ricorda come la pandemia si è iniziata a Wuhan, dove si trovava il più importante laboratorio di ricerca sui virus simili alla SARS. Una delle questioni più scottanti, scrive poi sotto, che riguardano la pandemia di Covid, è esplosa nel 2020, è l'origine, la questione più scottante è l'origine del virus SARS-CoV-2, che l'ha provocata, ovviamente. Le autorità sanitarie internazionali come l'OMS, l'OMOMS, ricordatevelo, VHO, scritto in inglese, OMS, sono degli acronimi, in italiano OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, All'inizio avevano sostenuto che l'origine del virus fosse naturale, e chi sosteneva il contrario, come gli esperti da noi intervistati, è stato censurato, cancellato, punito, sanzionato, radiato, bastonato, in tutti i modi. Ok? Vorrei ricordarlo, perché poi chi dimentica è complice, ricordatevi. Poi invece sono emersi indizi, dice adesso giustamente il New York Times, il Corriere della Sera, la Repubblica, guarda un po', se ne sono svegliati dopo quattro anni, che hanno fatto pensare alla possibilità che il contagio fosse avvenuto in seguito a un incidente di laboratorio. Poi sono emersi questi indizi che potevano far pensare, e guarda caso oggi quegli indizi che però già erano stati detti prima, dagli esperti quelli veri, guarda caso, sono la verità. Poi prosegue l'articolo, adesso non abbiamo il tempo, andatevelo a leggere, dove spiega bene questa scienziata qualificatissima, lo spiega benissimo, sul motivo per il quale è fuori discussione ormai questo fatto. Ma lo aveva già detto l'FBI nel passato, aveva ammesso, eccetera, eccetera. Ma possiamo noi ancora accettare che organizzazioni come queste, che hanno potenze economiche addirittura per censurare, bannare, bastonare, imporre obblighi, eccetera, possano vivere. Cioè, io questa notizia la trovo di una gravità eccezionale, e anzi di un conforto per certi versi, perché avevamo ragione, no? Sì, in realtà sì, però il discorso è quello che, diciamo, non mi spiego, è perché si faccia ancora tanto fatica, no? Stanno emergendo una serie di cose, sia in base all'origine del virus, sia in base su quelle che sono le conseguenze delle vaccinazioni, sugli eventi avversi, eccetera, eccetera. Però ancora, ancora oggi c'è tanta difficoltà nel far accettare che in realtà quello che qualcuno diceva all'inizio probabilmente era vero. Noi continuiamo a scontrarci nelle aule di tribunale, continuiamo a scontrarci anche, vediamo anche che sulle reti televisive non è cambiato molto il discorso. Io ho verificato in questi giorni che addirittura tante persone ancora non sapevano del ritiro di AstraZeneca, per dirne una, no? Dal commercio, quindi in realtà la mia sensazione è che queste notizie, al di là di voi che le date e comunque negli altri paesi circolano sicuramente molto più che da noi, non arrivano proprio alle persone, quindi c'è un'enorme difficoltà a far sì che la narrazione sia scalfita da questo punto di vista nel nostro paese, perché queste informazioni per quanto adesso le dia il Corriere o le dia la Repubblica in modo molto anche un po' ovattato, perché si tende comunque a rigettare la colpa sul laboratorio di Wuhan, non si dice come era finanziato, non si dice chi c'è alle spalle, non si dice che chi ha poi imposto quelle misure liberticide in questi anni e chi finanzia i laboratori di massima sicurezza, quindi c'è un passaggio ulteriore che ancora deve essere fatto, su cui ancora noi dobbiamo insistere molto, perché è vero, l'origine è importante capire anche l'origine insomma della Covid, da dove è nata e il SARS-CoV-2 da dove è nato e tutte queste cose qua, però è anche importante capire una volta per tutte che la repressione, io poi faccio questo ragionamento in quanto avvocato e quindi amante del diritto, che la repressione dei diritti e delle libertà fondamentali ha maggior ragione, non è giustificata e non può mai essere giustificata sulla base della sola presenza di un fattore virale o una qualsiasi altra cosa che si dice circoli tra le persone e possa appunto provocare influenze e quant'altro, bisogna investire nella sanità, bisogna investire nelle cure, in tutte le tipologie di cure, il cittadino deve essere libero di scegliere, di fronte a questi principi cardine, non c'è laboratorio che tenga e questo è il discorso secondo me che all'origine andrebbe fatto. Adesso stanno emergendo una serie di verità, ma noi dobbiamo capire che alla fine l'origine del virus è sì importante capirla per sapere da dove è arrivato tutto questo, però questo deve essere ancora un fattore ulteriore per farci affermare con maggiore decisione il fatto che le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini non possono essere repressi, non possono essere repressi né se lo dice l'OMS, ma tantomeno se lo dicono gli USA, se lo dice Fauci o se lo dice l'AIFA che recepisce quelle che sono le indicazioni dell'EMA che mi consento di dire l'EMA stava avallando degli aggiornamenti agli allegati degli atti autorizzativi nel momento in cui le case farmaceutiche chiedevano il ritiro di quel farmaco, allora bisogna che si spieghi che tipo di controllo fa l'EMA sui farmaci che vengono immessi in commercio, se mentre autorizza le modifiche agli allegati, quindi gli aggiornamenti degli allegati, quelle stesse case farmaceutiche ne chiedono il ritiro. Non era l'EMA che doveva controllare, quindi semmai l'EMA chiedere il ritiro di AstraZeneca o degli altri vaccini, sono quattro quelli che sono stati ritirati nell'ultimo anno, non l'ha fatto, sono state le case farmaceutiche e le aziende farmaceutiche a chiedere il ritiro. Allora tutte queste cose dobbiamo continuare a fare uno sforzo di farle capire alle persone, per poi però fare un passaggio ulteriore, cioè quello che questi diritti che ci sono stati tolti e ormai sviliti perché è difficile ripristinarli. Oggi si parla del diritto di voto, ma fino a ieri ricordo che c'era una grande difficoltà anche per andare a votare, dovevi avere la mascherina, i guanti, dovevi avere 3.000 cose, insomma dovevi mostrare un certificato, magari a quello non ci eravamo ancora arrivati, però ci arriveremo presto, insomma, soprattutto se continuiamo a non andare alle urne. Alberto, dal tuo punto di vista, questa notizia, insomma, Olga ci ha dato la visione giuridica, giustamente abbiamo capito e la ringraziamo, però io ho anche un'altra visione, cioè quella sociale. Noi siamo stati costretti, anche a livello di comunicazione, noi non ci siamo mai adeguati e come noi tanti altri che non ci siamo adeguati sono stati bastonati in tutti i modi, cioè ancora abbiamo le ferite gravissime sul nostro corpo. Però, insomma, qualcuno dovrà risarcirci adesso, risarcire l'opinione pubblica di non aver potuto godere di mezzi di informazione liberi che andavano ad indagare e davano le notizie, perché nel momento in cui le davi venivi bastonato. Alberto, io non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita, in tutta la mia vita, e tu immagino che sei in un ridito anche te perché ancora più di me questo mondo lo hai formato, sei stato un importante presidente di società importanti, sei stato consigliere della RAI. Cioè, voglio dire, chi ha avuto una carriera come la tua, votata all'informazione libera, indipendente, eccetera, porca puttana salta sulla sedia su queste cose qua. Non solo salto sulla sedia, perché poi io anche c'ho un'altra competenza di carattere più medico-scientifico. Il problema qual è? Allora, il povero Montagnier l'aveva detto subito, dall'alto della sua competenza, quindi premio Nobel, non l'ultimo di complottardi, guardate che qua dentro in questo virus ci sono quattro sequenze di HIV che non possano essere frutto della zoonosi, cioè del passaggio dall'animale all'uomo e che quindi sono state messe dentro a mano. Oh, gli sono volati addosso a tutti, rincoglionito, e quella è su e giù. Lo stesso è successo per l'Ivermectin, appena si è scoperto che questo fano che costava due soldi, per carità, non era risolutore in assoluto, però poteva aiutare moltissimo, speciale si è andato nei primi giorni, a lei tutti addosso, Brindisi in testa, il Corriere, il Meglius e tutti quanti. I vaccini hanno salvato milioni di persone, allora non c'è uno straccio di lavoro scientifico che conferma questa cosa. Contemporaneamente sta girando molto bene un'intervista che io ho fatto al professor Bellavitte sul sussidiario, che sta andando moltissimo, dove lui spiega proprio che i problemi che ci sono oggi sono dovuti alla, possiamo usare la parola delegittimazione in questo caso, del sistema immunitario dovuto proprio alle vaccinazioni. Proprio in un momento in cui, e vediamo come tutto si tiene all'OMS, come mai l'OMS finanziato in larga parte da Bill Gates, che ha tutti questi interessi, in almeno 10 società che fanno vaccini, è interessatissimo a sviluppare un trattato così cogente per obbligare tutti a vaccinarsi, perché l'industria farmaceutica si sta preparando a lanciare una filiera di farmaci, tutti basati su un vaccino di tipo mRNA, ma un vaccino per l'obesità, un vaccino per adesso per esempio ieri c'era la pubblicità dell'herpes zoster, che guarda caso l'herpes zoster è uno dei più frequenti effetti collaterali dell'iniezione. E Robert Kennedy Junior, cosa ha detto giorni fa? L'industria farmaceutica ha ricavato 70 miliardi di dollari da questi vaccini, ma ne sta ricavando già 500 dai farmaci per la cura degli effetti collaterali. Allora si sta creando una società in cui curare i malati, cioè curare i sani invece che curare i malati, che costa troppo, invece che promuovere la prevenzione nel senso di alimentazione corretta, stili di vita corretti, che sono quelli che ti mantengono in piedi un sistema immunitario efficiente, perché un sistema immunitario deficiente sarà comunque preda di qualunque venticello infettivo, quindi magari ci sarà davvero una nuova aviaria, ma sarà una nuova influenza, invece l'area K ci sta già facendo preoccupare, eccetera. Quindi c'è tutto un sistema in cui, per tornare al punto, i giornalisti soprattutto, ma i media sono correi, perché se andiamo a vedere ci sono solo sei grandi catene nel mondo. La Reuters, che è una delle principali agenzie di notizie, l'amministratore legato è imparentato addirittura con Larry Fink, il grande capo di BlackRock e quindi andiamo sempre a finire lì. Ci sono pochi grandi fondi di investimento che gentiscono tutto e soprattutto l'informazione. però che i giornalisti, per fortuna, che alcuni giornali mainstream come New York Times, come Telegraph, comincino a dare queste notizie, perché a questo punto un minimo di coscienza ce l'hanno e soprattutto si stanno accorgendo che i lettori stanno mutando atteggiamenti e si stanno interessando a queste cose, ma credo che non lo facciano per coerenza o coscienza. lo fanno perché hanno paura di perdere i lettori come già stanno perdendo. Quindi viviamo in un momento in cui siamo circondati dalle fake news e addirittura sentiamo la von der Leyen che ha detto una frase pazzesca dovremmo vaccinare l'informazione. Avete capito? Il DSA è stato votato dai governi, credo non dalla Lega, ma è stato votato da tutti gli altri partiti che è una direttiva che ci sta mettendo già il bavaglio da tutte le parti.